Questo segna, eh? Prima maglia con l'Udinese, questo segna sicuro. Mamma mia! Ovvio! Comunque sempre un Cristo di tiro, un Cristo di golle. Sempre, eh? Però che cavolo! Dai, ma come fai a farci qualcosì? Cioè io, con grande pazienza, devi avere la qualità e la personalità. Quello che si è fatto male, mi ha fatto male. Si, è vero. Non la parlo. Ma chi è? Ma a parte che fai a superare, poi dopo, no? Mamma, le partite. Mamma mia! C'è una. Buonasera. Grazie. Uno contro uno, quale sei grado. Nooo! Mamma mia! Chi era Cataldi? Luisa Alberto? Luisa Alberto. Luisa Alberto. C'erano dei problemini grossi questi, eh? Fai cosa sta facendo, è meglio? Questo non sa fare un passaggio. Questa è proprio una pippa. Guarda, che cosa ha fatto? Mamma mia! Ma io dico, mamma mia, ma come fai? Ma come fai? Quello lì, ma come fai farezza a fare una cosa del genere? Come fai a sbagliare una cosa del genere? Dai, allucinate, è proprio una pippa, è proprio scarso. Fa solo fallo, fa. Quando sta in un attacco si riesce ad andare pure in fuori gioco. Ma come fai? Ma come fai? Ma come fai? Ma come fai? Guarda, guarda, guarda! È proprio scarso! Mancano... Cioè, venti secondi, ma poi fa una cosa del genere? Se non riesci a fare niente la butti via, no? Ma come fai? 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 Ma figura ad esempio, eh? Poi controviate e riusciamo anche più a gol. La verità è fin troppo semplice da tuire. La posizione è presa da De Pol, quindi poco ordine. Guardate qua. Chiudetelo! Ma io dico, no? Cioè, è arrivato da centrocampo! Non male che hanno sentito, eh? Si lo ha veduto un po'. Eh, ho capito. Ah! E' mortacci, su. Ma c'è neanche il riuscito, e ha detto proprio di tacco per salire. Hai capito? Hai capito? Sì, te! Oh! Questi hanno un porta! Voglio vedere. Mamma mia, la fatta Cervi! Una statua io dovete fare! Una statua! E le sardezze! Non lo so. Cioè, io, 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 io non ce la faccio. Mi ha preso sta palla, eh? Che recupero! Perché sta... Immobile! Mamma che vorrei questo oggi! Vedi, vedi l'eva? La differenza tra l'eva e il palare a centrocampo? Ma perché? Ha fatto uno a giocare a cattacca. Ora è lì dopo, no? Se è stampa. Se stai a vincere ora, ragazzi, non è più. Tira! E che cazzarola! C'è l'assima di una rosa su sta palla, oh! Perché si ci fanno verso l'uomo? Siamo al settantino, eh? Siamo al settantino. Siamo a fare i 25 minuti. Abbiamo fatto un mezzo tiro in porta. mi raccomanda. Ecco lui! Che ti dico... E va. Che te ho detto? Che cosa ti golle ha preso strago? Che, oh! Che laagnino polestieri! Che ti ho detto il primo minuto del... Cioè... Ma chi colla ha preso questa roscia? Infatti non mi viene addosso, come l'ha fatta a cambiare? Sul palo suo, attirato da defilato, lui è riuscito a farsi facolti. Ma qua ne va perché non era una colpa che c'era davanti. Gli ha attirato dal cuore. Diciamo che non è stato proprio reattivo per niente. Eh, ho capito. Eccolo. Mori voi. Adesso il rigore. Ormai tirati. È ristano come prima. Dai dai, è ristano come prima. È ristano come prima. Però certo che... Tira, fai qualcosa, fai qualcosa! No, non ho preso la tua. Allora, la commissione che non ha fatto. Qua ha fatto commissione, questa. Non so, non mi ha ostacolare. 10 minuti. Ogni 3 minuti. Giù la misura. Giù la misura. Se non lo fai, cioè vuoi pure sberra. Se non lo fai, quello là che ti serve per... E dà anche tempo. Quindi, insomma, le fa veramente... Il pastiglio, il pastiglio, il pastiglio pure in teatree. Cioè, il punto comunque... Perché quello c'è? No, nel senso che... Il pastiglio pure in teatree. Non sarebbe pure in teatree. Le pass relevanti del pastiglio, che mi ha fermato.